A numero 7 di Via Pigna a Verona si apre i portoni della Casa della Giovane, sede di un'associazione di volontariato nata all'inizio degli anni Ottanta. L'associazione accoglie donne sole o con minori che sono in emergenza abitativa o vittime di violenza intrafamilare o di tratta. L'associazione Casa della Giovane aiuta le donne a rimettersi in piedi cercando un lavoro, una casa o una nuova vita. La struttura offre diverse camere da letto singolo doppie e tre mini appartamenti dove le donne possono stare al sicuro con i loro bambini. Le donne hanno una cucina in comune e anche la sala ricreativa con televisione e computer dove poter passare il tempo. Ci sono varie camere da letto singolo doppie e anche dei mini appartamenti che assicurano la sicurezza della donna. Il palazzo è stato donato da Margherita Pettennella la quale voleva che le donne si sentissero al sicuro e protette. La casa ospita anche un ostello per le donne straniere lontane da casa per motivi di studio o lavoro. La cosa più difficile per le donne che arrivano è il doversi fidare di persone sconosciute.